Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Matteo Salvini le scorse ore ha dato un'importante notizia per quanto riguarda gli aumenti delle pensioni. Vediamo insieme tutti i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il primo maggio faremo un consiglio dei ministri dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse. Queste le parole di Matteo Salvini a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. Sono qua anche per ringraziare gli operatori che anche negli anni bui non hanno mollato, hanno resistito e adesso permettono che Milano e l'Italia tornino al centro dell'attenzione mondiale. Sono molto soddisfatto. ha concluso il ministro di trasporti e delle infrastrutture Salvini. Dunque Salvini annuncia un importante sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse. I pensionati dopo questa notizia, visti i ritardi e anche degli aumenti delle pensioni minime, storceranno sicuramente il naso. Mentre sul PNRR Salvini ha dichiarato che la priorità della Lega è spendere tutto ma spendere bene. Sto correndo come un matto da nord a sud anche il 25 aprile e il primo maggio saremo al lavoro per sbloccare cantieri perché significa lavoro, velocità, sicurezza. Quindi soldi da spendere sia entro il 2026 ma da spendere bene perché sono soldi a prestito continua Salvini. A chi gli ha chiesto inoltre se si useranno tutti i fondi Salvini risponde conto di sì però l'importante che li usi bene. Non è la lotteria di Capodanno in cui ho trovato 100 euro devo spenderli tutti e 100 entro mezzanotte altrimenti li perdo. Questi sono soldi a prestito quindi l'importante è spendere e spenderli bene. Ha concluso Salvini. Fateci sapere i vostri pareri a riguardo qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione.